Sicuramente molti bellunesi appassionati di due ruote la scorsa domenica si trovavano davanti al proprio televisore in attesa della partenza, posticipata a causa del maltempo, del Gran Premio di Thailandia classe MotoGP. Qualcuno di loro avrà notato qualcosa di molto divertente. Tra le varie immagini della regia internazionale, diffuse a tutte le tv collegate in diretta, non poteva mancare quella della tribuna occupata dai tifosi dell'otto volte campione del mondo Mark Marquez, da poco rientrato nel Circus. Ma a staccare tra le grafiche rosse con numero 93 vi era una presenza curiosa, uno striscione dai colori giallo-blu riportante alla scritta Belluno c'è. Non è dato a sapere chi fossero i tifosi bellunesi del pilota spagnolo in trasferta a quasi 9.000 km dalla nostra provincia. Certo è che si sono fatti notare. Ricordiamo inoltre che nel paddock della MotoGP non mancano le presenze bellunesi, grazie a Enrico Marchesani, ingegnere motorista, e di Elena Decia, responsabile delle strategie all'interno dell'Aprilia Factory Team, in lotta per la conquista del titolo mondiale piloti con Alecce Spargaro.